con questo che è il fattore di lavatrice cazzo 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 questo è uno dei miei progetti cazzo 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 c Ma porca... Imbrusa! Ma che cazzo vuol dire? Pronto! Ehi, ciao Gianni! Ciao, Mitico! Ho appena visto il tuo video. Sai cosa sto guardando in questo momento? Bah, fammi indovinare, banane? Beh, più o meno, più o meno. E' un piatto rotante su cui giro una banana. Abbiamo fatto lo stesso identico video. Ora ci diranno che abbiamo copiato, che io ho copiato da te, che tu hai copiato da me, che io del futuro ho copiato da te del passato. Succederà un inferno! Gianni? Gianni? Pronto? Ciao ragazzi e bentrovati! Allora, come avrete capito dal siparietto iniziale, oggi parleremo di piatti rotanti. Allora, in collaborazione con il brusa, appunto, abbiamo fatto questa cosa abbastanza divertente, perché abbiamo, in contemporanea, avuto l'idea di questi piatti gireboli. E allora abbiamo voluto fare questa cosa abbastanza originale. Allora, io oggi vi illustrerò chiaramente il mio progetto, ma se volete vedere anche quello del brusa, questo, cliccate qua sopra, oppure andate in descrizione, che troverete il link del suo video. Ok, adesso andiamo a vedere il mio piatto rotante. Allora, il progetto di oggi, appunto, è questo. È il PR1, piatto rotante. Ok, allora, niente, ho voluto costruire appunto questo piatto rotante prevalentemente per la potatura dei bonsai. Come avrete visto, qua dietro, vengono portati tre da far vedere, questo è un picco selvatico, questo è un acero tridente, un boschetto, e questo è un ginebro. Ora, appunto, in primavera e in autunno, il lavoro grosso da fare è tutto per il bonsai e la potatura. Il bonsai va installato qua sopra e una volta effettuata la prima potatura faremo girare il piatto rotante appunto per avere una visuale a 360 gradi della piatta, sia del retro che delle parti laterali, così da effettuare una potatura completa. Ok, poi, ve niente, chiaramente, userò anche questo piatto rotante magari per far vedere a 360 gradi i progetti futuri. Ok, ora adesso andremo a vedere qualche test che ho fatto con il piatto rotante con vari pesi per vedere appunto la portata che ha il motore. Ci ho messo addirittura un motore da lavatrice, quindi una cosa abbastanza pesante. Va un po' scatti però dipende dal peso. Ok, ci ho messo la parte principale di questo progetto è un motorino con riduttore per microonde. io l'ho usato da 220 volt perché secondo me quelli da 12 volt a 24 volt sono meno potenti. Però io non ho provato e non posso dirlo con certezza. Ok, andiamo a vedere qualche test e un piccolo tutorial alla fine delle foto passo passo come faccio di solito. Ok, grazie. Ciao e a presto. Ok, ragazzi. Adesso proviamo appunto con un bonsai. Adesso io, vabbè, non lo leggo con la cintura di sicurezza comunque andiamo e proviamo a vedere. ecco, questa è la rotazione, la velocità di rotazione del piatto rotante e una volta finita la, cioè finita la visuale lo fermeremo per effettuare la potatura dove ci occorre. ok, adesso provo a farmi vedere anche un altro tipo di test allora intanto proviamo con questo che è un motore da lavatrice come vedete sopporta bene il peso questo è uno dei miei progetti, il bersaglio acustico e questo è un altro progetto, la PSC, la pistola sparaciccioli quindi come vedete anche come attrezzo di disposizione è una cosa abbastanza utile. ok, spero che il video vi sia piaciuto allora un ringraziamento speciale va al Brusa Andrea per la collaborazione anche se a distanza comunque sia molto divertente se volete vedere il suo video visto che questo video è solo per il mio piatto girevole se volete vedere anche il suo piatto cliccate qua sopra oppure andate in descrizione che c'è il link del suo video ok ragazzi, mi raccomando divertitevi e ci vediamo al prossimo progetto ciao ciao